Ad un certo momento della mia giovinezza, sui 19 o 20 anni, proprio nel mezzo del mio tentativo di frequentare senza troppa convinzione una università, presi finalmente coscienza del fatto che il futuro che desideravo era probabilmente qualcosa di diverso da quello che tutti si aspettavano. Alcune piccole esperienze mi avevano già da qualche tempo messo un tarlo in testa. La prima, e sicuramente la più significativa, riguardò i famosi tre giorni di visita militare presso maricentro Taranto, la visita militare di coloro che erano chiamati alla leva di mare. Quei tre giorni fecero germogliare in me l'idea che una vita di quel tipo, ancora sapevo bene in effetti quale fosse quel tipo, probabilmente mi sarebbe piaciuto. La seconda esperienza fu immediatamente dopo, quando scoprì che a fronte della maggior parte dei ragazzi che venivano rispediti al primo o secondo giorno della visita di leva alla leva di terra o in aeronautica, io al termine delle visite fui fatto abile e arruolato alla leva di mare. Il fatto di essere così pochi a essere avviati alla leva di mare significò un immediato, tempestivo incremento di orgoglio. Fu così che a quel tempo cominciai a pensare a una vita in marina. In famiglia nessuno aveva mai avuto esperienze o cognizione di cosa significasse essere volontario nelle forze armate. Così proseguivo in questa maturazione un po' a naso, attingendo alle uniche riviste all'epoca presenti in edicola, aeronautiche difesa, panorama difesa, cose del genere. Ma nessuna che parlasse più propriamente di marina militare. Fu così che un po' a causa di questa narrativa, un po' a causa della finzione filmica di quei tempi, il sogno fu quello di diventare pilota da caccia. Ebbene sì, anch'io per un certo periodo ho desiderato di diventare un pilota da caccia. Poi per fortuna però sono rinsavito, come mi piace dire spesso. Accadde infatti che un giorno mio padre torna a casa dicendomi che in un piccolo porto di una città vicino alla mia avrebbe ormeggiato una nave della marina militare, che sarebbe stata per un certo periodo visitabile dal pubblico. Chiesi quindi di essere accompagnato e, indossando la mia t-shirt blu con lo stemma della marina militare, mi mise in coda insieme a mio zio e a tutti i visitatori. Era nave orsa, classe lupo, ormeggiata al porto di Ortona. Già vederla dal molo, ormeggiata di fianco, con l'elicottero di bordo a poppa, già vedere gli ufficiali di guardia con l'uniforme di doppio petto, i bottoni dorati e la fascia azzurra, voleva dire molto se non tutto. Ma ancora più forte è stata la sensazione salendo a bordo, prendendo contatto con l'acciaio del ponte, con la formale organizzazione dei ruoli, dell'equipaggio, impettito e gentilissimo con noi civili, guardando il tricolore sventolare, chissato in alto. Terminato il breve giro sbarcammo e già prima che terminasse il tientibene della passerella sapevo già come sarebbe dovuto andare a finire. Sono un ufficiale della marina militare grazie a quella visita guidata su nave Orsa. Da quel momento infatti cominciò a maturare in me la concreta volontà di diventare un ufficiale delle forze armate, in particolar modo della marina militare. Una volontà che dovette però fare subito i conti con il fatto di non avere, né io né tantomeno la mia famiglia, alcun tipo di conoscenza reale, concreta del mondo militare, della sua natura, delle sue dinamiche, anche quelle più spicciole, più semplici, più banali. Se non appunto quelle poche, forse anche un po' forvianti, informazioni che in questo senso potevo intuire divorando appunto le riviste come Panorama Difesa o Aeronautica Difesa e simili. Un altro punto di svolta fondamentale lo devo ancora una volta a mio padre, da sempre convinto che se si vuole fare una cosa bisogna farla bene, al massimo delle proprie possibilità e soprattutto onestamente, senza barare. Ma per fare questo e per farlo senza scorciatoie avevo bisogno di saperne di più. E fu così che, oltre a formirmi di una quantità industriale di volumi per la preparazione ai test dei concorsi militari, mio padre mi consigliò giustamente di abbonarmi a riviste più centrate sul mio scopo, e in particolar modo quelle edite dal Ministero della Difesa, tra le quali la mitica rivista Marittima e il Notiziario della Marina. Fu così che presi un po' il coraggio a quattro mani e scrissi allo Stato Maggiore della Marina, spiegando le mie intenzioni e chiedendo di abbonarmi alla rivista Marittima e chiedendo anche se fosse possibile ricevere anche il notiziario. Contrariamente a ogni mia più rosa e aspettativa, ricevetti una bellissima lettera di risposta dal direttore responsabile che, con grandissima eleganza, mi confermò la possibilità di ricevere gratuitamente la rivista e mi diede anche qualche saggio consiglio per il mio futuro. Non so se a colpirmi fu più la sorpresa di quella risposta oppure lo stile del comandante della Marina Militare. Fatto sta che, una volta letta quella lettera, il mio pensiero era chiaro. Io devo diventare un ufficiale della Marina Militare. Sempre mio padre, in un contesto totalmente diverso, ebbe modo di conoscere delle persone che erano state ufficiali di complemento, qualcuno dell'esercito, qualcuno in aeronautica. E a loro chiese se avrebbero accettato di parlare con me, di soddisfare in qualche modo questa mia curiosità. Loro, gentilissimi, accettarono e per quello che potevano mi raccontarono con dovizia di particolari la loro esperienza di ufficiali di complemento nella rispettiva forza armata. Nozioni assolutamente utili che pian piano mi svelavano il mondo che poi mi sarebbe stato caro, ma che tuttavia non rispondevano ancora completamente al mio interrogativo principale. Cosa significa? Cosa vuol dire essere davvero un militare? Fortunatamente quegli stessi ufficiali in congedo avevano la soluzione, diciamo così, in mano e mi suggerirono di prendere un appuntamento, di andare a parlare con un vecchio colonnello in pensione, che era il presidente della sezione dell'unione ufficiale in congedo della mia città. Era il colonnello Mario Violante. Telefonai, prese appuntamento e andai. Mi ritrovai di fronte a una figura minuta, ma dal portamento e dall'atteggiamento sicuro, consapevole, fiero. Una persona gentile, disponibile, ma nient'affatto cerimoniosa. Una persona pacata e ostera, senza essere in alcun modo scostante. Una persona giovanile, pur essendo ormai già avanti con l'età. Insomma, un'immagine perfettamente coerente con quello che, seppi poi, era stato nella vita civile. Un maestro di scuola. E anche maestro di vita, giacché da quel momento in poi ogni visita presso la sede dell'UNUCI di Pescara fu un continuo trasferimento di conoscenze, esperienze, valori inemendabili, insostituibili e non solo valori militari. Fui aggregato al Sodalizio come amico UNUCI ancor prima di diventare militare. E ancor prima partecipai, insieme agli ufficiali in congedo senior della mia sezione, a gare di tiro a segno con la pistola di Orienting. Ricorderò sempre con grande affetto i primi alza bandiera al mattino presto e i primi inni sull'attenti, ancora da civile. avevo deciso che se anche una minima parte del mondo militare a quale mi accingevo a entrare era effettivamente come il colonnello me lo raccontava, beh, allora mi sarebbe bastata, sarebbe valsa la pena. E poi, piccolo spoiler, è andata effettivamente proprio così. Il colonnello non mi ha mai e poi mai nascosto le in mani difficoltà di riuscita del mio concorso come ufficiale, nell'arma dei signori, come la definiva lui, ufficiale dell'esercito. Specie se questo tentativo non fosse stato supportato da segnalazioni del livello più alto. segnalazioni che io, per indole personale, familiare e esplicita, non avevo, né volevo, né ho mai avuto o cercato. Perciò la sorpresa e la felicità del colonnello quando seppe del telegramma di convocazione in accademia fu davvero tanta, forse addirittura maggiore della mia. Mentre ero in accademia gli scrissi una lettera dicendogli che lì, nonostante le tante difficoltà, la fatica fisica e anche morale, tutto era esattamente come mi aveva insegnato e come io avevo sperato. Specie quando il corso si ritrovava alla sera inquadrati nei famosi corridoi dell'Accademia Navale per l'assemblea serale, subito dopo il marchio avanti e prima ancora del silenzio. Mi rispose con una bellissima lettera nel suo stile, una lettera che non era solo di approvazione ma soprattutto ancora una volta di sprone a fare sempre di più e di meglio con in mente sempre i valori della patria, della marina e delle forze armate. Sfortunatamente per chi ha avuto l'onore di conoscerlo il colonnello morì poco dopo. Per motivi di servizio all'epoca cercavo di dare il 130% al mio comando di destinazione con la speranza di poter acquisire titoli per il servizio permanente e quindi gli impegni erano davvero moltissimi e beh sfortunatamente non potei essere presente al suo funerale e questa è l'unica cosa che probabilmente non perdonerò mai alla marina militare. Unione nazionale ufficiale in congedo d'Italia, sezione provinciale di Pescara. Il presidente, tenente colonnello Mario Violante. Caro Nacci, la tua lettera mi ha fatto piacere perché ho notato la tua soddisfazione anche a costo di sacrificio e rinunce nella pratica e realizzazione dei desideri e dei sogni. Hai imparato a conoscere la patria, la terra dei padri, la casa di tutti, ti sia sempre di sprone e di monito il motto dell'accademia che stai frequentando. Luogo pieno di tante memorie che sono memorie di tutti, di valore, di gloria, di sangue versato per la nostra bandiera. Continua con l'entusiasmo di oggi, avrai la soddisfazione che meriti. Tanti tanti auguri colonnello Mario Violante